Benvenuti nella controlla segna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dei media euro-atlantisti. Iniziamo dall'ultima intervista del primo ministro ungherese Orban Victor Mihai al Newsweek inglese, giornale britannico. La Nato sta andando contro i suoi stessi elementi fondanti, a linea guida dei trattati, quindi dell'alleanza nord-atlantica stessa, cioè sta andando verso quella linea della guerra perpetua. L'alleanza, dice il primo ministro di Budapest, è stata creata per difesa, per difendere gli stati membri, i 32 stati membri in questo caso oggi. Bisogna tornare su quella linea di pace di Erretentes, di capacità di deterrenza e non di attacco. Noi siamo entrati volontariamente, l'unico paese di 32 con un referendum nel 97, come Ungheria, all'interno di questa alleanza, quindi volutamente scegliendola. Un'alleanza che non puntava all'espansione, alla guerra, ma alla difesa a quel tempo, secondo Orban Victor. Sto traducendo le sue parole per carità. Oggi l'alleanza guidata a Stoltenberg vede il suo focus nell'attacco, non quindi nella difesa, nella capacità di deterrenza contro potenziali nemici, aggressori in questo caso. L'Ungheria, dice Orban, appunto volontariamente è entrata in questa alleanza molto forte militarmente per cercare di evitare le sconfitte terribili ai danni dell'esercito ungherese, del popolo ungherese, le grandi guerre del XX secolo, che hanno rischiato poi di cancellare la nazione ungherese per sempre. E quindi non vogliamo più entrare in guerra, ma non volevamo neanche nelle due guerre mondiali. Qualcuno come Bogarlas in Ungheria, studioso economista, parla di un'unica grande guerra mondiale durata 30 anni, quindi nella prima parte del Novecento. Non avremmo mai voluto entrare lì volontariamente, ma siamo voluti entrare volontariamente nella Nato proprio per evitare i drammi umani della guerra. Quindi c'è bisogno di pace, continua il primo ministro. La pace è importante non solo come garanzia di sicurezza, ma dà una capacità competitiva maggiore, perché le risorse da girare per l'esercito vanno a finire soprattutto per le spese sociali, l'economia, le famiglie, la natalità ad esempio. Una guerra, per fare una guerra è molto semplice, basta trovare dei nemici, come fanno gli europeisti, i NAF, ucrainisti oggi. Per la pace, invece che dura, durevole, c'è bisogno di una grande quantità di alleati. Per avere alleati bisogna parlare con tutti, dialogo, quindi collaborazione, queste parole assolutamente messe al bando nel vocabolario di oggi allineato. Per fortuna, dice Orban, l'Ungheria recentemente ha stretto un accordo con la Nato, con Stoltenberg, che è arrivato a Budapest, nella capitale ungherese. Un accordo che permette alla stessa Ungheria di rimanere fuori da un conflitto diretto in Ucraina contro la Russia. Quindi soldati in Ucraina, missione NATO in Ucraina, tanto famosa decantata da Sikorsky in Polonia e da altri, soprattutto nel Baltico. La NATO, se sceglie la guerra alla pace, andrà a fine, quindi nella missione in Ucraina sostanzialmente, va verso una fine da suicidio, letteralmente dice il primo ministro ungherese. Lo stesso che in un'intervista di qualche ora fa a Kosciutradio, la radio pubblica ungherese, nel programma Buongiorno Ungheria, io reggo il modio a Rorsag, ha detto, ha annunciato che lunedì, quindi letteralmente dopo domani, Patrioti per l'Europa, la nuova frazione al Parlamento europeo, forse seconda, forse terza per grandezza, il Parlamento di Bruxelles e Strasburgo, avrà la sua prima seduta, quindi si sapranno più o meno i membri, i partiti europei definiti che faranno parte, membri quindi nel futuro. Perché bisogna aspettare lunedì? Perché domenica c'è il secondo turno delle elezioni parlamentari all'Assemblea nazionale francese, la Francia definirà in questo senso il futuro dell'Europa, dice sempre Orban alla radio pubblica. A Mosca, quindi Orban, ma anche il Ministro degli Esteri, Siyarto Peter, dello stesso governo Fidesz. Sentite le domande, due domande in particolare, due risposte di Siyarto, le domande dell'inviato di poi Skabaieva, di Rassia, di televisione pubblica russa. Cosa, Ministro, cosa risponderesti a quei partners europei che portano avanti delle critiche, critiche molto dure contro la visita del governo ungherese, qualche membro, Orban, sì, altri, proprio nella capitale russa a incontrare Putin? Prima cosa, dice Siyarto, siamo un paese sovrano. E non bisogna quindi stare ad attenzionare, a dare peso assolutamente a quelle critiche che arrivano sostanzialmente dagli allineati Guerra, Fondai, Haburu, Parti. La seconda risposta è domanda molto importante. Nessuno, questo è un giornalista non russo ovviamente, ma credo di Sky News, potrei sbagliarmi, dell'anglosfera comunque. Nessuno sta appoggiando il governo ungherese in questa visita a Mosca, dopo quella di Kiev, dopo solo i quattro giorni. Dice Siyarto, il Ministro ungherese, non mescolate, confondete i politici, i guerrafondai dell'Unione Europea con le persone comuni, i popoli europei, due cose molto molto diverse. Questo intervista al volo all'interno del Palazzo del Cremlino. A proposito, il portavoce del Cremlino, Dmitry Pieskov, ha detto che Mosca, quindi la Russia, dà molto peso, apprezza molto la visita di Orbán Viktor e dei ministri ungheresi per cercare di avvicinare i punti di vista nella guerra tra Kiev, cioè Washington, e Mosca. Pieskov ha rassiati nella stessa televisione pubblica russa. Ha reagito anche Medvedev, quindi vice capo del Consiglio di Sicurezza russo, toni molto accesi come sempre. Su Telegram cosa scrive? I politici dell'Unione Europea hanno reagito in maniera molto dura contro Orbán, che ricopre, ricordiamolo, molto importante, la presidenza di turno semestrale per l'Ungheria del Consiglio Europeo. Dice Medvedev, in Unione Europea i capi stanno portando avanti, hanno la solita isteria da cretini. La visita di Orbán da Putin ha confermato il fatto che l'Unione Europea e i suoi padroni americani hanno bisogno di guerra e non di pace. Parole molto dure. Tutti stanno contro Orbán, invece non è vero, cari giornalisti allineati dell'anglosfera soprattutto. Robert Fizzo, primo ministro slovacco, ha parlato per la prima volta pubblicamente dopo l'attentato ucrainista di Zintula ai suoi danni in 5-4 colpi sparati contro Banska Bistriza in quel convegno governante. Ricorderete tutte quelle immagini drammatiche. Comunque vicenda poco seguita, assolutamente insabbiata dalla stampa allineata NAF ucrainista italiana soprattutto. E ha espresso lo stesso Fizzo, grande apprezzamento per la visita di Orbán che non solo a Kiev ma anche a Mosca si è recato per cercare una pace. Quanto meno cessate il fuoco le armi. Via le armi dal conflitto ucraino, via il conflitto ucraino. Basta morti ogni giorno a entrambe le parti. Dice Fizzo, quindi lo slovacco da Pratislava, Se lo Stato di Salute me l'avesse permesso avrei sicuramente partecipato a questa visita a Mosca insieme al Primo Ministro Fidesz. Bisogna costruire in Unione Europea soprattutto una diga contro il falso progressismo, regressismo lo chiamo io, che si diffonde, dice Fizzo, come un tumore nelle società, nei popoli europei. Quindi destra e sinistra, in questo caso per politica estera assolutamente una divisione passata, superata. Stoltenberg, quindi serietario generale politico della Nato che va via il primo ottobre, arriva Mark Rutte, l'olandese, ungarofobo, orbanofobo, fate voi. Orbán non ha rappresentato a Mosca assolutamente la Nato, non ha il mandato Nato né dell'Unione Europea quindi. E ha viaggiato solo come Primo Ministro, solo si fa per dire, di un paese membro proprio da Putin. Come mi ha fatto notare un lettore, un commentatore, ieri al canale, ottimo commento, chi dava il mandato a Boris Johnson in quella primavera del 2022 per interrompere i negoziati di pace in Turchia e Bielorussia prima, tra Russia e Ucraina, all'ex quindi Primo Ministro inglese a Gran Bretagna del Regno Unito. Ovviamente gli ucrainisti diranno che questa è propaganda russa e non è successo nulla, nulla a Kiev in quel marzo e aprile 2022. La reazione, la minaccia anzi del ambasciatore, tra virgolette, americano in Ungheria, David Pressman, attivista LGBT. La visita di Orban a Mosca da Putin porterà grandi danni, creerà seri danni all'Ungheria, al popolo ungherese, soprattutto per quanto riguarda le relazioni diplomatiche, politiche e economiche con gli alleati, soprattutto gli Stati Uniti d'America. Questa visita di Orban non è stata riguardo circa la pace, ma per gli interessi nazionali, il guadagno anche personale di Orban. Finché Orban non chiede, pretende da Putin, l'aggressore che porta avanti una guerra brutale contro l'Ucraina, quindi l'invasione, non dà rispetto, non chiede rispetto all'integrità territoriale ucraina, non ci sarà nessuno che creerà la pace nella stessa Ucraina. Lo stesso vale, critica, minaccia, persigliato Peter, ministro degli esteri che abbiamo visto prima su Facebook. E sempre su Facebook, tiso a parte, secondo partito ungherese all'europea, sette seggi, è entrato nei popolari europei, PPE, quello di Polosco Peter, Modior Peter, che se la fa letteralmente addosso alle quattro e mezzo del mattino, dopo che i buttafuori di una discoteca lo hanno cacciato, lui che ha rubato un cellulare a chi lo stava riprendendo mentre era in atteggiamenti poco consoni con due sedicenni, ha gettato questo iPhone nel Danubio, quindi reato, ma all'immunità europarlamentare, lo saputo anche lui, in quanto ha scelto sostanzialmente, dopo un sondaggio ridicolo, di andare a fare l'euro parlamentare per 20.000 euro al mese, viva. C'è stato un incontro, durante l'incontro dei popolari, tra Ursula von der Leyen, sapete tutti chi è Ursula von der Leyen o von der Lügen, fate voi, e Thor Zoltan, che è il capodelegazione in Europa, nel Parlamento europeo, per la Tiso a parte, il partito del Tibisco, del rispetto e della libertà, l'abbiamo visto. L'obiettivo dell'incontro, fare gli interessi, appoggiare il popolo ungherese, ma l'unico, l'unico, dice questo messaggio del partito, ostacolo a questo beneficio per l'Ungheria, è il governo ungherese, la mancata collaborazione del perfido Orban, l'uomo nero, come scrive Huffington Post, che continua a mentire, scrive ancora, termine il messaggio. Vedete le meravigliose foto dell'europeismo nostrano di qui, ungherese, ma anche della nuova, vecchia, fate voi, se sarà nominata e votata al Parlamento europeo, capo della Commissione europea, che dà lezione di corruzione al governo ungherese, con tutto quello che è successo negli ultimi anni, proprio da chi ha molti rapporti familiari con gli Stati Uniti d'America, Pfizer, la difesa in Germania, eccetera, eccetera, che bella l'Europa unita. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Maggio Rorsag.